Anche oggi gelo, vento, neve e mareggiate in Abruzzo, un miglioramento seppur temporaneo, soltanto dalla giornata di domani. A Pescara il Comune fa sapere che la situazione è tranquilla in città, dove stanotte la neve è comparsa nelle zone culinarie, dove per tutta la nottata hanno operato gli spargi sale per assicurare la massima viabilità. Parchi e cimiteri chiusi, gli impianti sportivi restano invece aperti. Quindi neve pure a Pene, dove il Centro Operativo Comunale fa sapere che non si registrano particolari disagi, a parte quelli riguardanti alcuni automobilisti bloccati dal ghiaccio nella notte. Stamana l'opera mezzi spazzaneve e spargi sale per liberare le strade dalla Coltre Bianca, soprattutto nella frazione di Rocca fino a Damo. Fiocca anche negli altri centri montani della provincia. Montesilvano pronta un'altra nuova emergenza. Fiocchi di neve su Teramo Città, qui la TEAM sta collaborando con il Comune per la pulizia delle strade con lo spargimento di sale su ponti, sottopassi, fermate di autobus e corsi. La situazione più critica è Civitella del Tronto. Disaggi sono rappresentati soprattutto dal ghiaccio. A Silvi, oltre alla COC comunale, anche la protezione civile lavora in questi giorni particolarmente impegnativi. Neve anche all'Aquila, a Solmona, a Teleta, Rocraso, Revisondoli, Castel di Sangro. Non mancano i disagi in Marsica. A Campotosto, divelto il tetto di un MAP. Nevischio su A24 e A25, ma nessun disagio. Mentre sulla Statale 5, la Tiburtina Valeria, è provvisoriamente chiuso il traffico. Entrambe le direzioni, il valico di Forca Caruso. La provincia più colpita però resta quella di Chieti. Fiocchi scesi a Lanciano, a Palena, a Pizzo Ferrato, un metro di neve. Fiocca anche a Gamberale, Bomba, Guardagrele, Casoli e a Tessa. Nel Vastese abbondanti nevicate a Montazzoli, Castiglione, Messermarino e soprattutto a Schiavi d'Abruzzo. Il presidente della provincia, Mario Pupillo, precisa che sono oltre 100 i mezzi operativi sulle strade per evitare disagi. I vigili del fuoco di Agnone sono intervenuti a Castiglione, Messermarino, per rifornire di pane alcune famiglie bloccate da un metro di neve. Produzione ferma anche oggi alla Seveldietessa. Cancellati i turni dalle 14 e dalle 22, nevica anche Chieti, dove il nuovo piano neve ha retto all'urto della primavera ondata di maltempo. Il piano neve che è molto più esteso di quello degli anni passati, che prende tutta la viabilità in cui i transitori, sia i pullman interni della panoramica che quello della tua, non c'è stata nessuna lamentela oggi. Oggi può darsi che ieri sia potuto succedere qualche piccolo problema, ma è dovuto all'avvio del piano neve. Oggi che si è testato veramente il piano, posso dire che tutto ha funzionato, nessuna lamentela e quanto previsto è stato pienamente rispettato. Per quanto riguarda la viabilità principale, abbiamo già testato noi strade completamente pulite, qualche attenzione maggiore magari nelle vie più piccole, nei vicoli della città? Allora, oggi pomeriggio si comincerà a intervenire a mettere sale qui nel centro storico, nelle zone limitrofe, in modo tale che garantiamo il passaggio pedonale. Per quanto riguarda le strade extraurbane, là dove non c'è collegamento, c'è il mezzo comunale che già sta provvedendo al primo passaggio per cercare di rimuovere la neve che caduta dal gelo che si è formato.